Ciao a tutti, lui non mi ama più, come fargli cambiare idea? In questo video ti spiegherò come riuscire a riagganciare un uomo che per qualche motivo non ti ama più o forse non ti ha mai amato come tu volevi. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco dove ti lascio il link qua nell'info box. È un canale che secondo me potrà esserti molto utile nella tua crescita personale, nell'amore, nella seduzione, ma anche nell'autorealizzazione e nel lavoro. Vai a vedere, se ti piace iscriviti. E ti ricordo la possibilità di abbonarti sul mio canale Massimo Terramasco andando nella home page, tastina abbonati che sta a fianco al tastino iscriviti, clicchi lì e potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazione e seminari del vivo e abbonamento master consulting con in più delle, diciamo, una consulenza telefonica. Allora, e veniamo a lui non mi ama più, come fargli cambiare idea? Beh, intanto diciamo che ci sono due casi fondamentali che bisogna trattare. Il caso in cui lui ti ha amato, diciamo così, per un certo periodo e poi ha smesso di amarti. E il secondo caso è invece il caso in cui di fatto poi non si è mai innamorato più di tanto, non si è mai coinvolto più di tanto. Allora si tratta di farlo innamorare. Allora, come agire? Allora, nel caso in cui lui ti ha amato e poi ha smesso di amarti, vediamo questo primo caso. Allora, in questo primo caso è evidente che prima c'è stata quella che viene chiamata trasgressione. La trasgressione che cos'è? E' il comportamento di una persona, viene giudicato trasgressivo il comportamento di una persona che ti genera emozioni. Quella persona lì viene giudicata trasgressiva perché l'emozione, pathos, uguale patimento, patire. E quindi una persona che, tra virgolette, ti fa patire un pochettino, è una persona che ti dà forti emozioni, dà forti tensioni. Ecco quindi che è importante capire che questo aforisma, diciamo così, corrisponde al detto gli opposti si attraggono. Perché tu percepisci trasgressiva una persona diversa da te. Una persona che sia diversa da te, diversa rispetto ai tuoi valori, e diversa rispetto a quello che tu reputi importante, è una persona che viene giudicata trasgressiva. Le persone che vengono giudicate istituzionali sono persone, invece, che reputiamo simili a noi. E il detto è chi si somiglia si piglia. Queste sono le due parti opposte. Allora, se una persona ti ha amato e poi non ti ama più, vuol dire che prima viveva delle tensioni emotive, prima viveva del pathos e poi non lo vive più. Significa che è diventato, diciamo così, la relazione probabilmente un sodalizio d'amore. Sodalizio d'amore cosa vuol dire? Che c'è ancora un'unione, ma un'unione prevalentemente logico e razionale. Non c'è più quella componente passionale, no? Nel caso peggiore diventa un amore fatuo, dove non c'è neanche... Però, e devo dire che lo lasci degradare proprio, dove non c'è più neanche un'intimità relazionale, quindi uno scambio, una condivisione, ma c'è solo una parte, diciamo, legata all'abitudine e basta. Insomma, quindi, intanto bisognerebbe iniziare a gestire le emozioni prima che lui ti affermi, ti dica guarda che non ti amo più, perché se arrivi a quel punto lì, e beh, diciamo che sei arrivato un po' oltre fondamentalmente, no? Quindi è importante riuscire a gestire la situazione prima. Se non riesci a gestire la prima, devi a quel punto lì, quando ti accorgi che non ti ama più, o te lo dice, o te ne accorgi, devi rompere gli schemi. Rompere gli schemi cosa vuol dire? Vuol dire che devi mettere in atto, purtroppo, c'è solo una voce, che si chiama tradimento. Non è detto che deve essere un tradimento reale, può anche essere un tradimento presunto, però è necessario, diciamo così, rompere gli schemi, quindi fare delle cose diverse. Fai di vedere che stai cambiato, fai di vedere che sei trasformato. Devi iniziare a cambiare il colore dei capelli, devi iniziare a cambiare la palestra, devi iniziare a cambiare le cose che fai, devi trovarti nuovi interessi, nuove cose, dei corteggiatori, frequentare nuove persone, insomma, il tarlo del tradimento deve entrare lì nella testa. Cioè, non devi dirglielo tu, ovviamente, ma deve avere il serio dubbio che tu possi sentire innamorato di qualcun altro. Ecco, questo deve essere il serio dubbio, che indirettamente, senza dirgli assolutamente nulla, però devi fare scattare nella sua testa, perché soltanto se farai scattare nella sua testa questo, questo tarlo del tradimento, riuscirai a recuperare il potenziale, riuscirai a recuperare, diciamo, la situazione che ti interessa. E' ovvio che in questo caso vuol dire che, diciamo, devi seminare trasgressione, fondamentalmente, devi seminare trasgressione. Poi vediamo anche dopo, ti darò alcune indicazioni su come agganciare le persone, su come conquistare alcun nuovo, alla fine ti darò anche qualche indicazione su questo. Quindi questo è il primo punto, la prima situazione. La seconda situazione è quella, e ripeto, all'ultimo ti devo anche come agganciare le persone, come fare le cose bene dall'inizio, insomma. Però veniamo alla seconda situazione, in cui lui ti dice che lui non ti ama più, ma in realtà tu hai percepito che non si è mai innamorato. Questo significa che lui è una persona trasgressiva, perché le persone trasgressive, che si sentono trasgressive, beh, difficilmente si coinvolgono se non attraverso una trasgressione, appunto. E quindi in questo caso è quello che devi far di vivere è proprio una trasgressione. E come puoi far di vivere una trasgressione? Perché questo è quello, è l'unica cosa che devi fare. Beh, paradossalmente devi sceglierti un antagonista istituzionale, cioè devi trovare nella tua cerchia di conoscenza ed amicizia, oppure trovarti qualche persona nuova, uno istituzionale, perché è una figura che non potrai combattere al suo livello. Cioè, per fare l'esempio delle due figure simboliche, il camionista contro il farmacista, no? Per dire, o il macellaio e il farmacista, per come figure simboliche, no? Macellaio trasgressivo, farmacista, istituzionale. Te due hanno il grembiule bianco, ma fanno cose diverse. Ma questo semplicemente a livello di figura simbolica, in questo caso così. Quindi dovrai trovarti quello istituzionale, che può essere una persona, ad esempio, che vorrebbe fare qualcosa di serio con te, che vorrebbe avere una relazione seria con te. Ecco, questo gli genera trasgressione, cioè gli dà quell'emozione che lui trasgressivo deve viversi. E allora, se tu fai questo, inizierai a farti amare. Inizierà a provare un coinvolgimento, inizierà a provare un attaccamento, addirittura talvolta compulsivo, nei tuoi confronti. Ed è molto utile, molto importante questo. E adesso voglio parlarti di come agganciare, come agganciare le persone in modo tale da fare le cose fatte bene nel modo giusto. Come da subito fare le cose fatte nel modo giusto. Prima però iscriviti al canale, clicca su iscriviti, attiva la campanella, e poi iscriviti anche al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco, trovi il link nell'info box, un canale che secondo me ti sarà molto utile per la tua crescita personale, innamora nel lavoro, nell'autorealizzazione. Allora, e poi ti ricordo ovviamente gli abbonamenti, abbonamenti che puoi fare andando sulla home page, tastino abbonati e selezionare l'abbonamento base, l'abbonamento top, l'abbonamento master consulting. E poi veniamo dunque al tema, come agganciare le persone. Sempre rimanendo nel tema dell'istituzione e della trasgressione, devi capire se una persona è istituzionale o trasgressiva. Cioè se desidera, se si aggancia con l'istituzione o con la trasgressione. Ovviamente gli istituzionali si agganciano con gli istituzionali, inizialmente poi vanno a ricercare la trasgressione e quelle trasgressive si agganciano con le trasgressive e poi vanno a cercare l'istituzione. E allora, se ritieni che lui sia una persona che si aggancia con l'istituzione, tu devi presentarti simile a lui, creare un processo di identificazione, ma piano piano somministrare trasgressione nel corso della relazione, per in questo modo disseminare di tanto in tanto della trasgressione. In questo modo i due piatti della bilancia oscillano e mantieni sempre la relazione. Somministrare trasgressione vuol dire fare cose diverse, metterti in modo diverso, quindi gradualmente. Viceversa, se le persone si agganciano sulla trasgressione, quindi ti fai vedere completamente l'opposto di quello che è lui, poi piano piano devi somministrare gradualmente istituzione, cioè dimostrati un po' simile, ricalcare i suoi valori, le sue credenze. Ho fatto tanti video su questo per approfondimento, se vuoi andarle a vedere, però in questo modo parti col piede giusto e lo mantieni nel tempo, in modo tale da non lasciare che la relazione poi degeneri e vada a rovinarsi, insomma. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!